Mi sono occupato di Antti in due occasioni, prima del convegno del 90 in cui ho cercato di studiare i suoi rapporti con la scuola formalistica, diciamo così, di Vienna e poi in occasione del volume che è stato più volte ricordato, la sua attività al Boia e al Liviano come mencionate, di cui abbiamo visto oggi anche molti documenti. Mi sembra ora interessante incrociare in certo modo i dati di quei due interventi, naturalmente non nel campo archeologico che non mi compete, ma in quello dell'arte, soprattutto contemporanea, tutt'altro che disabitato nelle sue intenzioni, secondo un programma di azione etico-culturale sul quale hanno portato lumi i diari 43-48 recentemente pubblicati. Nati in un momento storico nel quale quel programma, dopo il periodo ultradecennale di intensa attività come Rettore dell'Università e poi Direttore Generale delle Belle Arti nel governo di Salò, sembrava giunto a una resa dei conti drammatica e l'impegno storico-critico riproporsi con l'urgenza di una via di salvezza. Ulteriori spunti di interesse sono offerti dall'ambiente accademico patavino, con il quale il nostro è in stretto contatto. Si è parlato, per esempio, di una squadra anti-marchesi-ferrabino-valgimigli, coesa ed efficiente nella difesa del settore antichistico a dispetto delle soggiacenti e poi esplose, come nel caso di marchesi, diversità politiche. E non c'è dubbio che un tale schieramento di personalità costituisse una forza d'urto per il raggruppamento disciplinare, peraltro decisivo in vista dell'ideologia classicistica dell'età e del regime, anche se con differenze sulle quali cercheremo qualche conferma. Si constata, anzitutto, a Padova un clima culturale non condizionato dall'idealismo, come provano le personalità con le quali anti è in contatto fin dall'inizio, Emilio Bodrero ed Erminio Troilo. Con il primo i rapporti derivano dalla comune militanza nazionalistica, esaltata da una valorosa partecipazione alla Grande Guerra, trasfociata nell'adesione al fascismo e divenuta fattiva collaborazione all'università, dove Bodrero era stato anche rettore, poi quando interferì a Roma con ulteriori incarichi politici. Autore, fra l'altro, di un manifesto alla borghesia, dove si sprecano livori antidemocratici, in nome di una classe incitata ad assumere il dominio politico già disponendo di quello intellettuale e morale, era considerato d'anti un antesignano del fascismo e una sicura risorsa dell'Ateneo. Del resto, Bodrero era studioso di filosofia greca, ma anche, per quel che ci riguarda, della romanità, difensore estrenuo di un'idea imperiale, non imperialistica, diceva lui, di Roma, conforme alle istanze nazionaliste, ma arricchita da sottili discriminazioni etico-soteriche poste negli interventi ai corsi di istica fascista. Significativo mi pare il contatto con Troilo, per una comune, seppur differenziata dai modelli, partenza positivistica, un bisogno di concretezza e di realismo che Troilo trasferisce però verso i valori spirituali, secondo la lettura amichevole di Augusto Guzzo, o verso una verbosa affermazione di realismo e trascendenza insieme, con un ammistizio con il neotomismo in funzione anzi idealistica e non senza adesioni fasciste, secondo la severa versione di Garen. Mentre D'Alprà ricorda con maggiore cordialità il carattere stimolante di tale polo realistico della resistenza padarina al neodialismo, meno avvertibile in Luigi Stefanini e non ancora centrata sulla pattuglia neotomista e neometafisica in arrivo dei Giacom, Padovani e Marino Gentile. Tale posizione può trovare qualche collegamento con i due piani che anti-mantiene operativi nella sua attività, fra una base positiva di ricerca e l'apertura dei valori sovrastorici della qualità artistica. Ma più che le ardue operazioni condotte da Troilo per affermare l'accordo di essere e pensiero, il nesso fra esprimibile ed espressione, hanno evidentemente interessato i rettori in numerosi studi sul Rinascimento, soprattutto sul Pomponazzi e l'averroismo padovano a partire da Pietro D'Abano, che lo studioso rivalutava contro le accuse umanistiche di arido formalismo come moderno recupero naturalistico e scientifico in una compiuta visione anti-metafisica dell'uomo e della molteplicità dei suoi saperi, ma anche come affermazione di identità nazionale e locale che regge al confronto con altre illustri scuole. È stato già documentato il contributo di Troilo nella scelta del tema per l'affresco dell'aula di lettera a Liviano, che abbiamo visto anche stamattina, nelle lavorate istruttorie per il lavoro di Saetti. In effetti la scena sembra l'illustrazione visiva di un coevo saggio dell'autore in proposito. E tanto doveva essere colpito anti la codesta identificazione di una cultura averroistica, nella buona accezione di Troilo con la tradizione accademica patavina Tukur, da indurlo a proporre le frasi iscritte nell'aula Totus Mundus Commutatur di Pietro D'Abbano e Promette un sesto filosofus, rivendicazione dell'attività produttiva dell'uomo entro la dinamicità cosmica come temi per la cantata di Gianfrancesco Malipiero che abbiamo appena sentito. Per Stefani non abbiamo indicazioni precise di contatti, anche se è un po' strano perché in fondo era il maggiore estetico, studioso di estetica della facoltà e anche con idee, diciamo, in certi aspetti contro l'eccessivo individualismo lirico di Croce che non dovevano spiacere a Danti come non doveva spiacergli il grosso volume su Gioberti in nome di quella continuità nazionalistica del fascismo di cui Ante era un rappresentante rispetto a, come dire, i fascisti malapartiani e versori. Però non c'è nessuna notizia precisa, per esempio neanche sul Platone. Nel 1935 questo libro di Stefanini sul Platone è il suo grosso contributo italiano sul tema, ma non mi risulta che Ante ne abbia notizia, ne dia in qualche maniera riscontro. Può essere che non gli andasse molto, non fosse del tutto consuntane alla forte connotazione cattolica di Stefanini, la partecipazione anche a istituzioni cattoliche, lai evidentemente Ante credo che fosse credente, ma di un atteggiamento piuttosto laico e soprattutto piuttosto diffidente nei confronti della Chiesa, soprattutto nei rapporti con il fascismo. Quindi può essere che questo abbia in qualche maniera creato questo silenzio nei suoi confronti. Così, nelle note sui lavori di forte inclinazione mistica dello storico Aldo Ferrabino, Ante esprime un interesse amichevolmente protettivo, la Chiesa non vedeva di buon occhio questi scritti, ma non una vera simpatia, insomma, per la dichiarata da parte di Ante attitudine operativa che sente di non poter rinunciare alla vitalità dell'azione in nome di valori differiti. Invece l'idea, anzi il mito di Roma, di Ferrabino, che pur non risulta fra i docenti fascistissimi, tra ambiguità e appelli ad una manzoniana metastoria, si manifestava individuando un antintellettualismo romano autonomo rispetto al mondo greco. E nella storia dell'urbe una magnitudo animi, esaltata da Livio, il Livius Noster, adesso ricordo il bivilenario della morte, allora quello della nascita, in grado di trionfare sui conflitti etnici o sociali verso una pacificazione generale. Il che riporta l'idea armoniosa e in prospettiva cristiana di impero in Bodrero, che contribuisce all'analogia tra il passaggio tra la Repubblica al Principato e la transizione dalla democrazia al fascismo, sponsorizzata addirittura dal cardinale Schuster con un'ispirata associazione Augusto Mussolini. Panti concordava, come è ovvio, con la missione universale di Roma e con l'autonomia della Grecia, punto fermo di identità italica sulla quale costruì lo schema storico-estetico che avremo modo di richiamare, conforme al modello corrente di riattualizzazione del passato glorioso. E infine diverso il rapporto con Giuseppe Fiocco, cui già accennato ieri Francesca Ghedini, lo storico dell'arte con il quale condivise la formazione e una lunga esperienza umana ed accademica, non senza contrasti, dovute alla diversità dei caratteri e delle strategie culturali. Questi, come Morando Antti, ricorda l'amicizia di origine familiare, i comuni studi a Bologna, uno allievo di Supino, l'altro di Glierdini, ma anche i viaggi intrapresi insieme, quello in Dalmazia, Redunion cronologico del Tardo Antico fra i due mondi, e quello a Monaco, che per Fiocco è un punto fisso della propria autobiografia critica, significando la scoperta della pittura impressionista e quanto essa si porta dietro nel sistema di valutazione non solo della modernità ma dell'intero processo figurativo dell'Occidente. Processo e campo di ricerca che Antti tiene ben presenti, perché su di essi si erano esercitate le novità del formalismo che avevano rigenerato la critica attraverso valutazioni ispirate ad una più viva e partecipe in relazione con l'opera della quale anche l'archeologia sentiva il bisogno. Infatti, se Fiocco parla dell'archeologia come di una scienza madre per la storia dell'arte, dalla quale bisogna imparare il mestiere per potersene poi staccare, Antti usa espressioni severe nei confronti degli archeologi troppo chiusi nei loro schemi e in persona con coerenza il bisogno di una proiezione sulla modernità seppure declinata sul codice etico e comunicativo del regime. Nelle carte giovanì di Fiocco si trova conferma del dialogo fra ricerche storico-artistiche, modellate su nuove analisi stilistiche e nuove linee storiografiche, e un'esigenza di metodo ispirata alle formule crociane, dialogo che caratterizza in diversi modi l'opera di Longhi e Ronello Venturi. Antti, sfruttando la comune radice archeologica di positivismo e formalismo, colloca le sue istanze critiche nel rapporto tra Löwi e Vickhoff, i due maestri dei quali riprese lo studio proprio in quel momento difficile di esame di coscienza professionale al quale ho fatto cenno, dopo il controllo del mondo sul quale aveva fondato le sue convinzioni, ma avvertendo egli pure l'esigenza di basi estetiche solide. Tale ripensamento post bellico doveva concludersi in un volume, Controlli di estetica, annunciato per il 1946 dalla casa editrice Le Tre Venezie, nella quale casa editrice, come pure della galleria annessa della rivista Antti, se molto da vicino alle vicende, sarebbe interessante un studio in proposito, doveva comparire questo volume all'interno di una collana curata da Sergio Bettini, ma del quale non ho trovato nessuna traccia. Mentre c'è la prova di intense letture, per sua ammissione purtroppo ritardate a questi anni, di classici come la Vie de Forme di Fossillon, che anti-reputa scolaro di Deonna e in parte critica per questo, ma affermando a un certo punto che certe cose bellissime della Vie de Forme hanno forse reso inutile quello che ho scritto. Potrebbe essere questo un segnale che abbia poi rinunciato, insomma, al proposito di continuare. Oppure das Problem der Forme di Adolf Hildebrand, Renaissance und Baroque e i Kunstgeschichtliche Grundbegriff di Wölflin, il manifesto puro visibilistico italiano, a lui come a fiocco non molto gradito, costituito dal sapervedere di Matteo Marangoni. L'autore mostra sì fiducia nel sistema teorico, storico, stilistico proprio delle leggi di Lange e di Leuvi, visione frontale, venute primarie, immagini mnemoniche, costanza tipologica, usando lo schema di comodo della progressiva conquista dello spazio dall'arcaismo a Policleto o a Lisippo, ma poi nega recesamente la teoria del progresso in arte, inadatta a costruire una vera storia, storia di personalità e a dar conto dei valori eterni dell'esistenza romana. In particolare, questi schemi visivi, che meglio emergono in relazione con i momenti primitivi, tendono all'identificazione di un processo figurale che sottopone l'oggetto ad una trasformazione fantastica, sulla quale alleggia la nozione molto dibattuta all'epoca di deformazione, contrastata naturalmente, non così lontana dall'accezione ilirica di croce, mentre nel passaggio dal mero rilievo alla piena forma plastica e al suo libero gioco nello spazio compaiono interessi volumetrici e prospettici che esplodono nell'arte rinascimentale ed abbiamo almeno una prova, in alcune note di fiocco, di una lettura comune del celebre testo sulla prospettiva come forma simbolica di Panofsky. E contrario si può menzionare invece un saggio di Stefanini sulla prospettiva rovesciata, tardo-antica e medievale, cara alla gnosiologia ontologico-soggettiva del filosofo, ma che viene ripresa anche, parlando di mosaici per i cristiani da Antti nel volume del 50 sulle basiliche e i petrali. Ma il primitivismo, modello intellettuale positivista per una ricerca nell'originario di leggi formali costanti, esemplare a questo proposito l'interesse di Antti, precorritore e un elemento interessante per l'arte negra, torna esso stesso in una nuova versione che oggi altro lo è associato al nome di Lionello Venturi. E per intenderne tutte le implicazioni è necessario coinvolgere nuovamente Dicov, che non per caso il nostro ha il merito di aver valorizzati, soprattutto per la rivendicazione dell'autonomia artistica romana rispetto alla Grecia. In nome di un illusionismo, un'attenzione al contingente e al particolare, se può partire la prima immagine, grazie, una sorta di sprezzatura deformante, che si vede bene appunto nelle slogature anatomiche dell'obeso etrusco, che nonostante chiarimenti o precisazioni richiamano bene l'impressionismo. L'impressionismo e il primitivismo sono punti essenziali nella ricostruzione del pensiero generale dell'epoca, o convergenti, come nella lettura di Lionello Venturi e in parte di Fiocco, che associava con la mediazione della pittura veneziana, ambedue a fresca vivezza di espressione, immagine non artificialmente costruita ma intuita, spontaneità originale di fantasia, o divergenti, come nella variegata area della reazione novecentista all'impressionismo, inizialmente amato dagli italiani e pari, in senso lato, poi allontanato per le insorgenti pretese nazionalistiche. Già nel 1908 Soffici, pur amando l'impressionismo, preferiva Cézanne, quindi il solido recupero della forma. Negli anni venti, Bontembelli associava l'impressionismo al barocco e lo spingeva fino al futurismo come momenti in fondo di crisi ai quali andava riproposta invece, contro i quali andava riproposta un'idea di primordialità non cronologica ma ideale. Con le varianti che seguono, tra plastico giottesco e prospettico quattrocentesco, traversati da istanze metafisiche o esigenze realistiche, dinamismi deutero-futuristi o estesi cromatiche, turgori monumentali o linee asciutte, baruffe strapaesane o virtù stracittadine, tutti peraltro pretendendo di rappresentare gli autentici valori della civiltà fascista. Peranti, illusionismo vicofiano, espressività, vita dell'individuale e del contingente sono il segno che egli traccia nettamente nel saggio omonimo del 30 dell'arte italica in confronto alla greca, la quale invece è naturalistica, tipizzante, classica. L'etrusco-romana è primitiva in questo senso, cioè spontanea, vivace, non costretta da modelli universali e nella sua trasfigurazione fantastica capace perfino di toccare certe forzature cubiste, come appunto si vedono qui. Oppure con la vivacità, la vivezza, insomma, fresca e naturalistica e momentaneistica anche, diciamo, del Viteglio Grimani. Anche lui, anche Antti, menzione il mezzo italiano Cézanne, che aveva già ritrovato in un ridevo antico del Museo di Venezia e del quale Zola, facendo ogni protagonista fallito del romanzo L'œuvre, non avrebbe capito la pienezza restauratrice. Proprio il ricco sentimento della tradizione, oltre al petrascurato, prova la superiorità della pittura italiana sulla francese, confermata nell'occasione di una mostra romana del 1946. Trascuratezza non attribuibile all'Ercole di Bordel, che già ieri ha mostrato Francesca Ghedini. La scattante scultura di ascendenza rodeniana, tutta dinamismo ultramoderno, mostra peraltro evidenti affinità con composti modelli e genetici. Tra l'altro quelli che ha mostrato Francesca Ghedini ieri sono migliori perché c'è anche una medaglia dove proprio si vede lo scatto simile a quello della statua di Bordel. Allora, originalità e tradizione non sono incompatibili che in che ne pensasse la superata franesia vanguardistica, per la già ricordata fissità di moduli iconici nella mente umana, allo stesso modo in cui i moduli stilistici si evolvono secondo leggi e ricorsi abbastanza costanti. Appunto il ritorno alla natura del topoguerra permette di recuperare le leggi di continuità che dominano nel regno dell'arte, restituendo alla qualità individuale ed epocale il suo contesto. Quanto al problema iconografico, ricordato da Monica Salvadori, sul quale incombe la negazione crociana del contenuto, Antti li accenne in vario modo e parrebbe affrontarlo direttamente in questi famosi controlli di estetica. Nei diari ne cito un brano sul soggetto da intendere rettamente quale autentico generatore di stile, ben distinto da ciò che è elemento culturale o sentimentale esterno, quindi qualcosa come un contenuto che già di per sé condiziona la sua forma. Esigenza che è evidente nelle tante note sulla musica, specialmente quella di Bach, paragonata all'architettura per la sua insopprimibile vocazione matematica e costruttiva, sicché l'una e l'altra offrirebbero una sonora smentita alla dottrina crociana della totale arrazionalità dell'arte. Ora, proprio l'arte contemporanea deve affrontare la sfida di conciliare la missione comunicativa e l'abbandono spontaneo al piacere estetico. Se la comunicazione era un punto decisivo della politica fascista delle arti, ribadito di recente da Bottai e Lazzari, confermato dall'entusiasmo sul muralismo nel quale Antti esercita, noto in suo maggiore impegno a Padova, lo vediamo però battere la via parallela del gusto, non senza l'aiuto di Ponti, la cui importanza come suggeritore, anche indicatore, simulatore di interessi contemporanei è indubbia. Il dualismo che si ritrova sui muri di Padova, appunto, tra l'urgenza del messaggio, affidata alle grandi pareti celebrative, che abbiamo modo di vedere anche oggi, è la finezza di un estro più libero, lasciata magari ai parerga di De Pisis nella stanza del Rettore, al mosaico di Severini nella Sala del Senato, o al desiderio deluso di avere un Carrà, un De Chirico, un Morandi. Del resto, anche nel caso del messaggio, la soluzione di Campigli esce, per esplicita confessione del pittore, dal tema celebrativo inizialmente proposto, di eventi simbolici dell'antica Roma, per porsi invece come una meditazione sul passato, elegante archeologia mondanizzata dove prevale la vita presente nel suo clima e nel suo costume, esaltati da una stilizzazione della quale si afferma senza remor l'autonomia. E tanto si può dire per Funi nella Sala di Medicina, per Severini nella Sala di Giudiprudenza, per la stessa rocciosa risoluzione plastica del titolidio di Martini, del quale è noto che la prima versione, invece, il bozzetto era tutt'altro che così statuario, era molto più descrittivo, se vogliamo concedeva molto di più al messaggio, insomma, di quanto non accada dopo. È l'ardua scommessa di un'arte di regime che si pretende autonoma in quanto il regime non vuole apparire un sistema sovrimposto, rimposto, ma identificarsi con il libero svolgimento della vita nazionale, per quale l'arte non può che essere la naturale espressione. Il suo fisma è palese, ma serve a mantenere alla meglio un rapporto con la modernità, donde le ironie di Antti su fiocco passatista e il subentrale di Pallucchini nella sua stima come conoscitore e sicuro giudice del contemporaneo, il Pallucchini che scrive su Campigli nelle arti e che doveva preparare il famoso volume o pittorico. La fede contemporaneista dell'ex rettore sembra leggere anche al precipitare degli eventi, alle difficoltà materiali e al prevedibile cambio di casacca di tanti artisti cui si era affidato. Va in crisi quel patrimonio ideale che gli sembrava l'arte potesse così naturalmente trasmettere. Ma quelle idee ora perdono le coloriture fasciste e tornano nazionali, rivendicano la tradizione classica che veniva dal suo retaggio di archeologo, alla ricerca di un'eternità rassicurante. Che sarà quella dei teatri arcaici, ma non solo, non smette infatti di visitare mostre e di andare ai concerti, per quella forma di inguaribile ottimismo, di impegno etico-estetico anche se ormai ridotto a una dimensione semi-private. Comovente la frase del 20 settembre 47 dei diari quando confessa il suo dolore di apostolo dell'arte moderna, tra virgolette, di essersi esaltato sì al Festival di Musica di Venezia, ma con il Requiem di Mozart, non con la musica contemporanea. Ma nonostante tutto, l'arte vive. Non è facile, e non è neppure nostro compito, dalle pagine di diario, verificare il punto di crisi raggiunto dalla sua coscienza e il modo in cui l'arte può essere nel termometro, anche come responsabilità verso un passato che aveva mostrato tutte le sue vanitose menzogne. Ci basti qualche cenno. Se un segnale netto ci viene dall'interesse con cui accoglie Christos fermato a deboli di Carlo Levi, il più problematico è quello derivante dalla lettura dell'indigesto scogliere di marmo di Ernst Hünger, in dubbio è la sua diffidenza malvenata di antisemitismo per scrittori della crisi come Stefan Zweig o Rainer Maria Rilke, che qualcosa avevano prefigurato della catastrofe europea della quale il fascismo aveva preteso di garantire la soluzione. Difidenza estesa a Mahler e alla musica romantica e tardo-romantica, slava e giudea, che gli sembra una pericolosa deriva aiutata da uno smodato successo attuale registrato in termini di fastidio e, devo aggiungere, di sgradevole insensibilità per la tragedia ebraica. Per contrasto, invece, molti riferimenti alla produzione dell'amico Malipiero e al suo recupero della musica antica. Per venire a qualche esempio figurativo, lo sentiamo commentare con ammirazione e finezza la donna dormiente al sole di Martini, che aveva comprato tra l'altro lui stesso come direttore generale di arti e che teneva nello studio, nella quale coglie l'originalità della mancanza di punto di vista principale, ricavandone una vive idea di movimento, e ricordo poi il titolivio. E per lo più sono ancora i suoi artisti del Boe e del Liviano, quelli di cui segue con attenzione l'opera, e quando può favorisce con acquisti pubblici la carriera. Così abbastanza costante è la sua ammirazione per Casarini, di cui vede, nello studio verso il Museo archeologico, un prometeo incatenato, cito, capriccio prospettico prevalentemente ma risolto con la sua consueta ricchezza cromatica che nell'ambiente piccolo e basso fa quasi paura. Quindi una storia di San Martino, di piccole proporzioni, questa è un altro Casarini di quegli anni, una donna veneta, una storia di San Martino di piccole proporzioni che ripete in un paesaggio da fiaba, questa specie di 400 ferrarese, un tema già tentato, che era esposto nella grande mostra della sala napoleonica. A sinistra si vede la versione grande del quadro di Casarini. L'altra parte di Casarini avete visto anche ieri che è stato mostrato il grande fregio del Museo del Castelvecchio che anche gli piaceva. Così per Ferrazzi, di cui ricorda con favore alcune composizioni, devo ringraziare qui oltre a Martanezio il collega Giovanni Bianchi che mi ha scelto e mi ha trovato queste immagini molto belle. Appunto sono queste le due immagini che lui, i due quadri che lui vede in una mostra romana, che sarebbe la parola di Cristo, quello che sta dipingendo in questo momento Ferrazzi, e sulla destra la stanza. La parola di Cristo in cubo di Fussli. O Persaetti, di cui mostra, di cui vede una mostra al Cavallino e che aveva comprato, tra l'altro, questo Riccardo in Corazza per la Galleria d'Arte Moderna, che gli sembra sia notevolmente progredito verso una pittura di grandi macchie sommarie con vivaci contrasti di colori. Di Fasan acquista un quadro al Cavallino, questa è una serie di Fasan di quegli anni, registrandone le qualità cromatiche raffinate delle scene decorative o delle nature morte. Girando per una mostra di Pendini a Padova, rileva i colori smaglianti e netti applicati ai caratteristici motiglia lolandese. Vi vede motiglia lolandese nelle tinte un po' più scure che ci sono qui sul fondo. Però, andando avanti, il suo giudizio si fa un pochino più severo. In fondo Pendini è un provinciale, saporito, ingenuo, fresco ma provinciale. Si arricchisce invece d'amore per De Pisis. Una sua mostra alle tre Venezie, che vede in anteprima l'11 novembre 1947, lo rivela ormai un veneziano, nel senso di fiocco, e per confermare anzi una sequenza storico-stilistica, un guardi che ha fatto l'esperienza impressionista. È un'espressione anche molto bella. Mentre per Sant'Omaso, che non era mai stato suo, nonostante la porta amichevole intervenuto al Bo, cresce un po' in sospetto di una deviazione post-tellica mercantile, e lo vede poi intruppato in quella serie di pittori e teorizzatori, manifesti e gruppuscoli che non gli vanno tanto a genio, come peraltro anche a fiocco. Con il caso particolarmente antipatico di Guidi, che gli pare un brutto pittore, oltre che un teorico piuttosto confuso. Un incontro con Piacentini, alla diennale del 48, è occasione per uno scambio di considerazioni malinconiche sul rischio di mero decorativismo incombente sull'arte astratta, coincidenti con gli appunti di fiocco a Lionello Venturi e, almeno in questo caso, con le idee del Bianchi Bandinelli di organicità e astrazione. Ed è ovviamente il punto critico acuto della sua valutazione, il temuto venir meno di quel contenuto umano, di quella sostanza comunicativa che per lui è essenziale, peraltro consegnata a un ben definito e circoscritto mondo di forme, che resta quello degli anni d'oro del suo rettorato, senza le inclinature e le ferite che già allora cominciavano a manifestare. Grazie. Grazie. Applausi. Grazie.